Autentica festa dello sport, quella celebrata al Goretti di Catania con oltre 400 alunni delle scuole elementari per la giornata conclusiva del progetto Rugby patrocinato dall'amatore Catania e che ha visto la presenza di amministratori comunali, del team manager Umberto Trebara e del direttore generale dell'amatore Luciano Catotti, di dirigenti scolastici, insegnanti ed alunni che sotto un sole coccente hanno condiviso una mattinata di socializzazione attraverso lo sport e l'intrattenimento. Al progetto Rugby avviato dalla società Biancorossa hanno partecipato le scuole Santi Giuffrida, Livio Tempesta, Pestalozzi e Fontana Rossa. Gli alunni delle scuole elementari sotto la guida dei rugbysti dell'amatori Salvo Garozzo, Fabio Galloppa, Massimo Gramagna, Massimiliano Vitti, tra musica ed entusiasmo hanno dato vita a numerose partite e esibizioni sul terreno del Goretti e alla fine del terzo tempo bibite fresche e brioscine per tutti. Gli alunni delle scuole elementari Gli alunni delle scuole elementari Grazie a tutti.